Matteo Omiccioli Mi ricordo la categoria 64 kg Eccola l'angolo rosso Matteo Omiccioli Applauso Che vedremo posto all'angolo blu Dalla pugilistica dorica Orte l'applauso per Leonardo Ciacchini Eccola l'angolo blu Dalla pugilistica dorica Eccola l'angolo blu Dalla pugilistica dorica E' la prima ripresa Eccola l'angolo blu Eccola l'angolo blu Dalla pugilistica dorica Eccola l'angolo blu Eccola l'angolo blu Grazie! 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 20 secondi! È la seconda ripresa! Grazie! Ari, EU 1995 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie. Grazie. Grazie a tutti. Fuori i secondi. E' la terza e ultima ripresa. Grazie. 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 a tutti. Grazie. a tutti. Grazie. 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 tra l'occasione. ai punti. Vince. Leonardo Giochini. Forte un applauso anche per Matteo Omiccioli. e ringraziamo anche l'arbitro il signor Sauro Di Clemente bene signori